Un'ora fa al Cremlino è esplosa una bomba. Il presidente ha implementato il protocollo Ghost. Tutto l'AMF è stato esautorato. Mi è stato ordinato di portarti a Washington dove incolperanno te e la tua squadra dell'attentato al Cremlino. A meno che tu non scappi dopo aver neutralizzato Brent e me. Ma se qualcuno dei tuoi verrà preso sarà considerato un terrorista deciso a scatenare un conflitto nucleare su scala mondiale. Perciò che succede ora? La tua missione, se dovessi decidere di accettarla... Allora, dimmi il piano. La tua missione, se dovessi decidere di accettarla... Chi sei veramente, Brent? Tutti abbiamo i nostri segreti. Vero, Ethan? Ok, ricorda, blu incolla. E quando è rosso? Sei morto. Non ce la farai mai! Così non mi aiuti.